Sì, ragazzi miei, quanto ci mancava questo gioco che... ero online, poi mi sono disconnesso da Toys volevo dire, se conoscete il gioco di tanti anni fa che era questo ho la Toyota Supra, però ho questa macchina perché, come vi devo dire facendo un po' il ventilatore che se no poi si schiatta allora, in pratica io avevo la Toyota Supra solo che mi sono fatto prendere la polizia e me l'avevo sequestrata quindi ora ho questa macchina con sti cosi e con il busto guardate devo fare sempre così se mi baggo eh, bro, sei impigliato, lo sai? sì, sì, lo sa, l'ho visto che si muove però guarda, guarda, guarda watcha, 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 bro watcha watcha, perché non va? che panno? ah, no, giusto perché io ho un problema con il PC c'è con il telefono oh, madonna santa dove cazzo sono andato? pum eh non lo so anche io dove sono andato esattamente cosa faccio? allora, devo fare delle manovre anche se le manovre sono un po' sbagliate perché sono bloccate ah, no, 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 ma sono genio genio del male vai boom no, 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 no battle flip fatto andiamo vai allora, io comunque la benzina cioè, ho pochi soldi quindi devo fare una cosa devo prendere quel bastardo soldino da sopra cavolo vai vai prendilo prendilo sono un genio sono un genio raga sono un genio sono un genio raga io consiglio di mettere la grafica medio perchè se no non potete vedere bene la stream del gioco allora madonna santa però allora vediamo se ci sono altre monete da cercare online io raga naturalmente ora tipo frena non funziona un cazzo ok vabbè allora sto un po' volando ok normal via 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 ok incidenti si fanno sempre spero pringere comunque andiamo boost oh madonna poco boost lo sapete che una volta non era così sto gioco ed era molto più bello senza sto boost ed era molto più figo con tutte queste effetti così bellissimi ragazzo andando a 190 no 180 oh oh in autostra no ma manca in autostra in city city in inglese vuol dire praticamente città che c'è di male tanto è un gioco vabbè di stascia poi se ci vede la polizia scammati vai raga vai raga vai raga ti ho boost no raga il boost finito e vabbè che man da frigo tanto ce l'abbiamo il boost ce l'abbiamo col motore il boost perché naturalmente funziona il motore frena 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 rosso rosso non ci interessa noi passiamo lo stesso noi passiamo lo stesso ma i bro dove sono cioè li vedo là però non li vedo li vedo sulla mappa però non li vedo in circostanza vicina babum babum orologio ah mi sa che i bastardini sono qua dentro normal raga io sono in un server inglese perché sto imparando un po' con duolingo allora dove devo andare eccoli li vedi che sto qua uè raga a vedo con una carra così non so perché non so perché ho questa macchina anche io non lo so perché ho questa macchina oh incidente stradale 1.0 cos'ero ah era il silent boy bastardola giusta affermazione se io ho la carta di credito google play con 200 euro modifico tutta sta macchina e sia su grand truck simulator il camion nuovo lo modifico oltre delle mod più usate del mondo naturalmente lei sta andando le mod per modificarlo spero qua vicino che c'è scritto sembra che c'è scritto hdmi oh bro ti svegli che ti prende oh boom ah minchia praticamente nuovo booster del mondo cos'è oh i ti svegli ah ok svegliato minchia che so forte l'ho fatta andare sotto la mappa passante ma quell'aereo non parte ma perchè non parte quell'aereo guarda che sta fermo dai bro dai bro parti 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 che ti sto davanti dai dopo due ore non è partito con tutto se parte ma guardami quello spavento e me ne vado via subito comunque noi andiamo via lo stesso eh oh abbiamo soldi c'è pochi però naturalmente dio santo oh sono volato che genio che bellissimo è bellissimo volare con la macchina ok l'homa dafaka il silent borg rumpi uppi kuri juli all'i raffare in culo ok ok ah un freno a mano davvero davvero un freno a mano personale oh un freno a mano personale ragazzi che figata arrivo pure io bastardi per un minuto oh sono davanti ho diventato un eh lo sapevo pensavo anche io che ero un cono stradale anche se quello non è manco un cono stradale quindi molto più diverso andiamo comunque poi devo fare la copertina tutte le cose e via andiamo dove sono andati i miei bro i miei bro se stanno scappando porca troia eh si ma però vuoi stare pure attento eh però e sta macchina si fotte tutta la benzina in un millesimo secondo eh e madonna che spavento c'è manca uno spavento vai corri 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 che fanno qua la gara? la gara fanno qua la gara fanno qua che fanno qua la gara fanno qua hanno partito vai 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 no tanto ci dovrebbe servire la benzina prima vai benzina 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 ok ma oh raga andiamo andiamo pistami pistami in culo pistami poi boom andiamo sopra di te bro sopra di te e what up ma io sono un genio cioè sono bravissimo andiamo eh si ma il bro è il coglione cioè ha voluto fare uno scontro su di me e pensava che lo sminchiavo tutto comunque io vado qua vai start pronto è nata sei il giocatore è un volo non venite voi stupido dai cammina cammina per favore ma perchè ci devono essere i giocatori non posso farlo io da solo guardia uno con la toyota guardia uno con la toyota cioè manca una toyota è una cazzata abbiamo le frecce che vanno allo stesso tempo no pronto non posso togliere pronto ormai questo si è messo davanti quiiii andiamo anche se quello mi mi bacio non mi interessa hai perso e vabbè oh e vaffanculo fantastico hai ricevuto si 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 non mi interessa quanto cazzo hai troppo quanto cazzo hai la 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 eh si naturale pensano di fare i figli giusto no io quando li vedo grandi e fanno sta cosa guarda guarda sai cosa ora facciamo una cosa seria mettiamo un po' di boost alla nostra macchina così possono vedere pure quanto siamo veloci noi non è tanto la sua moglione vai 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 help me help me dai cammina cammina ah e palla finalmente ce l'abbiamo fatto arrivo pure io bastardo della minchia ah nooo bastardi ah ah minchiona minchiona dai proviamo pure io dai la faccio pure io toyota s baby che nome di merda pronto 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 allora raga ora che abbiamo il boost possiamo fare quello che vogliamo eh eh meno male aspetta dai 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 minchionin minchionin che abbiamo il boost dai called così vai 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 dai 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 di lo said tanto il miniatomo io santo il miniatomo in miniatura hai capito? e poi il giochino che fa nella foto io davo ciao madonna quanto piccola è la macchina e quanto bassa e la macchina boom comunque dove sono il bro? vai 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 ah ce l'abbiamo fatta carichiamoci un altro booster va? nuovo booster caricato raga ora si fa la gara di nuovo anche se stanno fruttando un po' i soldi dai che palle volevo farla pure io annulla dio santo si ma devo annullare bro vabbè ragazzi grazie mille per aver visto il video ci sentiamo per un nuovo video di questo gioco commentate nei commenti se volete vedere altri e ci sentiamo per un prossimo video lasciate like e commentate bye bye vai 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 vai